Musica Elezioni, commenti delle forze politiche, a Palazzo del Pegaso i riflessi dei risultati della consultazione elettorale della scorsa domenica. Ben trovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio, la trasmissione dedicata all'attività del Consiglio regionale della Toscana che riprendiamo dopo la pausa per la par condice in occasione della campagna elettorale per le elezioni politiche. Questa puntata è interamente dedicata proprio ai commenti dei gruppi in Consiglio sull'esito delle elezioni. Iniziamo con il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, in questo caso intervistato come esponente del Partito Democratico. Io penso che noi dobbiamo avere il coraggio di dire come sono andate le cose, anche le cose positive. Penso alla mia città, a Pisa, noi abbiamo fatto il più 4% rispetto alle politiche del 2008, più 10% rispetto al Sindaco Conti, siamo a nove mesi dalle elezioni e sono convinto che ci sia la possibilità di giocarcela sia lì sia a Siena. Quindi esiste un tema e un problema serio a livello nazionale ma allo stesso tempo dobbiamo leggere anche i dati positivi. Io penso che quella lettura è stata una lettura di questo tipo, che tiene conto di luci ed ombre. Poi il problema esiste, penso insomma di aver detto quello del mio punto di vista rispetto a tutto questo. È chiaro, bisogna essere, diciamo approfondire, andare nel dettaglio ma anche essere rapidi perché il rischio è che se stiamo fermi e immobilizzati rischiamo di avere erosione ancora sia dal Terzo Polo sia dal Movimento 5 Stelle. Ritroviamo la nostra identità e poi parliamo con tutti. La direzione in Toscana è chiara perché guardate, in Toscana noi abbiamo un programma molto chiaro. Su questi temi noi siamo disponibili a confrontarci con tutte le altre forze politiche, quindi a partire dal Movimento 5 Stelle. Però i temi sono chiari, sulla transizione ecologica la nostra proposta che abbiamo messo in campo soddisfa o no chi oggi non è in maggioranza. Sul tema delle infrastrutture, allo stesso modo, noi pensiamo che debbano essere portate a termine. Sulla sanità pubblica e la necessità che il Governo metta più risorse per sostenere le regioni che hanno più sanità pubblica come la Toscana. Il Movimento 5 Stelle è a favore o contrario? Io parto dai temi perché se noi ci rimettiamo di nuovo nella discussione delle alleanze come abbiamo fatto in questi anni e come dicevo anche prima noi si rischia di fare il gioco dell'oca che non porta da nessuna parte. Noi abbiamo un programma chiaro, con quel programma ci siamo presentati ai cittadini. Se guardo i dati anche ora delle politiche che sono molto differenti, quelle due forze, la centro-sinistra più il terzo polo, sono ancora maggioranza con numeri importanti a livello regionale noi ripartiamo esattamente di qui ponendo poi dei temi e su quei temi confrontandoci con chiunque voglia farlo. E questo faremo anche nelle amministrative che ci saranno tra qualche mese. E adesso dopo il Presidente del Consiglio i commenti delle forze politiche. Il risultato del Partito Democratico anche in Toscana, al di là di essersi difesi in questa situazione difficile che è risultata a livello nazionale, non è un risultato brillante. Ma per la Toscana vale lo stesso che ho detto per quanto riguarda il livello nazionale. Cioè prima i contenuti, prima la riprofilatura del Partito Democratico, prima una riflessione su un programma che noi abbiamo per quanto riguarda il governo della Regione che ha messo assieme una maggioranza che è quella che governa. Quindi la riconfermo, eventuali aggiornamenti. Partiamo dai temi e partiamo dai contenuti, non da altro. E poi si parla di chi dovrà guidare il partito. Certo, nelle dichiarazioni vedo, come dire, c'è anche delle dichiarazioni in netta discontinuità. Vorrei che si ripartisse anche un po' andando a rivedere quali sono le collocazioni cioè delle varie persone, dei vari dirigenti all'interno del PD perché vorrei che di fronte, come dire, alla nuova stagione ci sia anche una coerenza con le cose che andremo a proporre. Ma prima i contenuti e dopo gli assetti. In Toscana è un dato straordinario, essere al 10%, denota che questa è una regione che chiede riformismo, che chiede scelte, dove un'area liberal-democratica e popolare come la nostra sta trovando un grande riscontro. Contestualmente c'è il crollo del Partito Democratico e questo denota che vanno fatte delle scelte. Bisogna attuare una politica di governo in grado di assumersi responsabilità, attuare i piani di programmazione, fare scelte infrastrutturali, stare accanto all'impresa e al lavoro che oggi parlano la stessa lingua e questo denota che abbiamo il diritto e il dovere di cambiare passo, per esempio per quanto riguarda la gestione della sanità, che non sta dando le risposte dovute agli operatori e né ai cittadini. Nel contempo, a titolo personale, è soddisfazione per aver raccolto 22.000 voti. Partivo da una dote cosiddetta di 10.700, siamo arrivati nel mio collegio a 22.000 voti, più del doppio soltanto nel corso di due anni. Io credo che sia stato un lavoro straordinario che denotano l'attaccamento al territorio, con la Toscana del Sud, Siena-Grosseto, che comunque ha bisogno di risposte importanti, penso infrastrutturali come la Tirrenica, penso infrastrutturali come i collegamenti ferroviari e abbiamo bisogno di non lasciare una Toscana a doppia velocità. Quindi dobbiamo tenere insieme nel contempo una regione che si attacca alle regioni del nord rispetto allo sviluppo economico, rispetto alla ripresa e soprattutto una regione in grado di avere una sticella spostata sull'asse di un riformismo che noi possiamo garantire essendo forza di governo e su questa sfida sfideremo anche i nostri alleati nel governo toscano. Per quanto riguarda la Toscana dobbiamo dire innanzitutto come Lega che abbiamo eletto sei parlamentari, quattro deputati e due senatori e questo chiaramente ci riempie di soddisfazione nonostante il dato percentuale sia stato più basso delle aspettative. Per quanto riguarda le componenti amministrative che siano quelle locali, nei singoli comuni o quella regionale del Consiglio della regione Toscana non credo che ci saranno degli stravolgimenti perché chiaramente sono dinamiche diverse. Abbiamo vissuto un'elezione politica con dinamiche nazionali e questo poi riguarda soprattutto chi governa la nostra regione e noi dell'opposizione cercheremo di portare avanti quelle che sono le nostre istanze e quello che abbiamo fatto fino ad oggi in questi due anni. Cercheremo di farlo in maniera più incisiva cercando anche dei collegamenti con il nuovo governo che finalmente sarà un governo di centro-destra dove chiaramente le politiche nazionali toccheranno anche i temi regionali e delle autonomie locali. Quindi da quel punto di vista possiamo essere degli interlocutori importanti come opposizione nel Consiglio regionale della Toscana per far sì che ad esempio i fondi del PNR siano portati avanti in maniera incisiva anche nella nostra regione e faremo di tutto perché anche su alcuni temi come quello sanitario ma anche quello del caro Energia anche in Toscana si possano trovare delle soluzioni incisive. Questa è la prova che il Movimento 5 Stelle gode di ottima salute e la guida del Presidente Conte è stata fondamentale per riprendere le fila di un'azione che abbiamo intenzione di rinforzare sui territori che è quella dell'ascolto, della condivisione dei temi più critici e della risoluzione dei problemi a livello nazionale. La compagine toscana vedrà Ettore Liccheri, Andrea Quartini e Riccardo Ricciardi a rappresentarci, persone di esperienza, di grande esperienza e di valore. e partendo da queste basi e soprattutto da un programma che è molto attento a un'agenda sociale, ambientalista e progressista siamo sicuri di poter fare anche dall'opposizione il meglio per la Toscana e per l'Italia. L'agenda Gianni se esiste immagino sia fatta da una pagina, la pagina in cui il governatore prende atto che da oggi se vorrà continuare a governare questa regione lo farà non avendo più la maggioranza dei consensi della regione. Perché ieri ho sentito il governatore arrampicarsi addirittura in uno strano conteggio matematico secondo il quale avrebbe ancora la maggioranza perché somma i consensi del PD quelli della lista di Calenda e Renzi. Forse è dimenticato che la lista di Calenda e Renzi ha fatto la campagna elettorale praticamente quasi esclusivamente contro il Partito Democratico quindi dubito che oggi questi consensi si possano sommare. Oggi Fratelli d'Italia è il primo partito al Senato in Toscana e quindi il Presidente Gianni ovviamente ne doveva prendere atto. Detto questo auspico nell'interesse della regione e di tutte le province toscane che vi sia una collaborazione tra il governatore Gianni e il governo. Su questo non ho dubbi perché il governatore da questo punto di vista non credo abbia preclusioni ideologiche a confrontarsi col governo. I risultati arriveranno in Toscana se la Toscana si confronterà ovviamente col governo. E qualora, ma non credo, ripeto, non credo sia un atteggiamento che appartiene al governatore Gianni, qualora si volesse far finta che il governo nazionale non esiste e si continua ad andare avanti con la testa bassa perché la Toscana è l'ultima delle roccaforti dove dentro ci stanno asserragliati quelli della riserva indiana, penso che si farebbe soltanto un danno a questa regione. Il successo del centro-destra è andato anche oltre le aspettative in un collegio che è vero, era dato favorito per noi, ma questo significa che i cittadini, anche quelli che erano indecisi, hanno poi optato per dare la fiducia a quei partiti che possono andare a governare il paese con una maggioranza solida e andare a risolvere i problemi di tutto il territorio, non solo del mio collegio, ma toscano. Sicuramente decidono gli elettori e il risultato non possiamo dire che sia stato dei migliori. Abbiamo ben chiaro che probabilmente i cittadini sono sfiduciati e avranno bisogno con questo governo di centro-destra di una Lega che riesca a fare la Lega, quindi con i suoi uomini, le persone preparate che noi abbiamo all'interno del partito, cercare di lavorare per andare a rispondere alle esigenze dei cittadini e riacquistare quella fiducia che in questo momento hanno perso. Per me il leader Matteo Salvini non è assolutamente in discussione. Noi paghiamo lo scotto di un governo fatto col centro-sinistra del Movimento 5 Stelle, un governo di emergenza. Probabilmente i cittadini non hanno capito le motivazioni che ci hanno portato ad entrare in quel governo, ma però siamo sicuri che andando ad allinearci a quelli che sono i nostri alleati storici, quindi con un'affinità anche di idee e di proposte, riusciremo a fare bene e questo servirà anche al partito per acquistare la fiducia degli elettori. Il centro-destra ha vinto tutti i collegi uninominali, escluso quelli dell'area ferentina, dopo aver vinto 7 comuni capologo su 10, quindi evidentemente è anche un voto di sfiducia nei confronti del governo regionale, oltretutto la maggioranza, e l'abbiamo visto anche oggi durante la mattinata di consiglio, è frantumata, perché la frattura in Toscana tra PD e Italia Viva è una frattura evidentemente più profonda e più grave di quanto non è successo altrove. Lo è nel momento in cui il vicepresidente della regione Toscana, Stefania Saccardi, il capogruppo di Italia Viva si sono candidati contro il PD nei collegi uninominali, è evidente che questa frattura è ancora più profonda, come abbiamo visto stamani durante il dibattito consigliare. C'è da lavorare su tanti fronti, perché la sconfitta nazionale è una sconfitta pesante e netta. Noi non possiamo dirci non solo soddisfatti, ma neanche possiamo dirci arresi di fronte al futuro, perché noi abbiamo un ruolo importante, siamo il secondo partito in Italia, in Toscana è il primo partito, seppur di poco, e seppur in alcune aree, non solo il centro-destra, ma anche i fratelli d'Italia, è diventato il primo partito anche in Toscana. Questo lo dobbiamo ben aver presente, ma non possiamo arrenderci. Noi abbiamo un ruolo grande a livello nazionale e un ruolo di governo importantissimo qui, in Toscana, nei comuni e nella regione. I cittadini ci riconoscono ancora come il maggior punto di riferimento. Sappiamo che questa rendita, che noi abbiamo storica, la dobbiamo ogni giorno storica, perché le persone hanno una grande civiltà e anche hanno sempre riconosciuto il nostro buon governo, negli enti locali e nella regione, ma è una rendita che se continuassimo a chiamarla così sbaglieremo, nulla è più scontato. La storia della Toscana la conosciamo tutti, quella recente è molto importante, ma il futuro ci dice che dobbiamo ogni giorno rinnovarci per dare significato a quei valori fondanti della civiltà della nostra regione, dal dopoguerra oggi e anche per larga parte precedentemente, per corrispondere alle aspettative e alle esigenze delle persone, dei cittadini, delle imprese. Questo ruolo di governo continueremo a espletarlo cercando di farlo sempre meglio e farlo anche capire sempre meglio. Questo ruolo di opposizione nazionale invece servirà anche a far capire quali sono le proposte chiare, nette, serie del Partito Democratico che dovranno rifondare la sua identità. Io penso che il compito che avremo di fronte, chiudo, è quello di un congresso, come è già stato detto anche dal segretario nazionale ieri, che non sia un congresso in nessun modo ordinario. Noi abbiamo bisogno di rifondare, rigenerare, vedo che vengono utilizzati molti temi di questo tipo. Dobbiamo ricostruire il Partito Democratico. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.